Colpì ripetutamente la madre con un coltello causandone la morte. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato Cristiano De Vincentis, 51 anni, accusato di aver ucciso con 34 offendenti il 19 ottobre 2022 a Bucchiani con sua madre Paola. Il processo a suo carico entrerà nel vivo il 31 gennaio del prossimo anno davanti alla Corte d'Assise di Chieti che ha ammesso le prove richieste dalle parti. L'imputato su richiesta dell'ufficio della PM di Chieti nelle scorse settimane è stato trasferito da quello di Teramo dove si trovava in un altro carcere. La Corte in particolare ha ammesso le due liste testimoniali prodotte dal PM Giancarlo Ciani, la lista della difesa rappresentata dall'avvocato Gianluca Totani e quella di parte civile, presentata dall'avvocato Anna Olivieri, che porterà in aula come testimone una sorella della vittima a cui aveva confidato il timore che il figlio potesse farle del male. L'avvocato Totani ha fatto nuovamente richiesta diritto abbreviato se dovesse cambiare il capo di imputazione costituito oggi dall'omicidio volontario aggravato a carico dell'imputato e che renderebbe ammissibile il rito alternativo. Secondo l'accusa, quella mattina De Vincentis dormiva quando la madre entrata nella sua stanza lo colpì alla testa con la punta di uno schiaccianoci e al petto con un coltello da cucina dotato di una lama di 20 centimetri procurandogli una lesione di 5 centimetri. Sempre secondo l'accusa, l'uomo si alzò dal letto e dopo aver intrapreso una colluttazione con la donna ferendosi alla mano destra per sfilarle il coltello, con quello stesso coltello colpì la madre per ben 34 volte in plurime parti del corpo cagionando volutamente la morte della vittima.